Colore? Quattro etta nero. Quattro etta nero. Come no? E' verde. Sicuro? Vabbè, è verde. Vuoi prendere il mio battito? Sì. Un applauso per chi? Ok. Vogliamo chiudere. Vedi? No, 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 devi mettere. Non mettere in tasca. Che fai? Vuoi? Fai giochi di prestigio, già? Eh? Ok, sai che devi fare? Dammi il battito, bravo. E prendi tu questa. Il bambino d'esta a sinistra. Appoggia questa parte. Cioè, compri bene la pancia, poi se non si vede, perfetto. Ok. Cris. Da lontano, che non ho mai fatto prima d'ora, immagini. Guarda. Prendi il battito, guarda il bambino, importante. Metto la pugna. E questo è il battito che si parisce. e va interno, sopra il cornice, come era prima. Ti credi? No. No. Grazie a tutti.